Ciao ragazzi, guardate che vi ho portato oggi Finalmente, finalmente Ci abbiamo fatto Due anni dopo The Revenge, la vendetta Però ci siamo riusciti Allora io sto nella stessa condizione di due anni fa Se non peggio perché ho avuto la vecchiaia Perché insomma sono due anni più vecchio Due anni che dovevamo lavorare Quindi figure di cosa troveremo oggi Ragniatele Ragazzi, io vivo seduto purtroppo Una cosa prossima Faccio il lavoro da seduto E quindi già l'altra volta stavo messo male Adesso Peggio Peggio Tra l'altro se tu hai una tecnica Puoi smettere di mangiare Se ce l'hai Ci posso pensare ma potrei averla Allora noi abbiamo fatto già il video con Ambra Che era promesso da due anni Sì, ci abbiamo messo poco a farlo però Esatto, ci abbiamo messo poco Però l'abbiamo fatto Quindi ho visto già un po' le tecniche che Sono particolari Che ho iniziato a sudare Ambra è nettamente più diligente di Mike Esatto Vabbè, ci vuole niente Qualcosa di più mobile di me Però possiamo sempre chiedere ad Ambra Ambra c'è qualche tecnica specifica che vorresti fare su Mike E questa qua di chiudere lo stomaco non era male Di chiudere la bocca Di chiudere la bocca non era male Non era male Però ho una sorpresa per te Perché l'altra volta avevo dei calzini con gli hamburger Esatto, e sono quelli che hanno fatto legend Esatto Cioè il video che qualcuno non guarda le tecniche Erano quei calzini Oggi vi stupirò Vi stupirò Allora iniziamo a levare l'orologio Sì, l'orologio Poi io leverei anche il cappello Che magari potremmo poi ricordarlo Le scarpe Sì Ecco l'orologio si è appena rotto È andato Ragazzi Mi tolgo il cappello e chiedo scusa agli spettatori Però c'è un motivo per cui porto il cappello Che è questo qui Eccolo qua ragazzi Ci sono Bellissimo Ci sono ancora ma Un ministro tra Ringo Starr Sempre anni 70 Ma c'è un motivo per cui porto il cappello Perfetto Ok Scappette Guarda Ah quindi si parte subito con i calzini Just watch Vai Take a look To my socks Senti la pronuncia del Wisconsin Questo This is my pronunciation Ok guarda C'erano gli hamburger Guarda questa To No Come si chiamano queste Le Jelly bean Le jelly bean Belli no Bellissimi Questi Questi Beh siamo saliti di livello Beh ci sta Ci sta Anche se gli hamburger erano Descriverano di più la situazione attuale però Però devo dire che questi mi hanno colpito Allora Allora Anche se la maglietta è quella che fa Ti dicevo infatti Non so Non so se è peggio La maglietta dei calzini Ce lo direte nei commenti Ma sai che fu La maglietta Forse la maglietta Spinge sulla fascia Come si suol dire In vero calcistico Ci siamo? Sì sì Io voglio gli scrocchi Quelli Quelli veri Allora 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 Ci siamo Intanto controlliamo Bravo Fermo lì Facciamo un piccolo test Da un lato e dall'altro Pronti? 3, 2, 1 E andiamo Mi mancava Cioè Sto dollo non sconchiamo da tre anni A me è mancato Tra l'altro mi è rimasto Un pezzo di vertebra in mano Eh sì fate È più barbio Bene Proseguiamo così Sta andando Direi fantasticamente Pronti Rilassatissimo Bravo Faremo pure a me Non riesco a essere serio Io che ti ho scusa a casa Non riesco a essere serio Quindi oggi la faremo una Così Una figuraccia Bene Proseguiamo Piccola variante Lascia tutto abbandonato Bravo Ok Come va? Tutto bene? Sì sì ancora Ancora sulle spalle Sì sì Bene Rilassatissimo Bene Io tra l'altro rivedrò il video Perché tu te lo stai gustando Sì 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 Io invece non lo vedo Ma lo rivedrò dopo Infatti voglio Mi sto perdendo tutte le facce di Mike Perfetto Proseguiamo Pancia in su Io direi di continuare con Tutta la parte cervicale E ci finiamo tutto il collo E poi continuiamo a scendere Vai vai Te lo fai pure tu l'asciugavano adesso Sì sì Ma io sono arrivato Ma sto tipo in super Cioè C'è un misto tra Non vedo l'ora E L'altra E l'altra Sono fassurati Io non lo trovo più sul lentino Che è scappato Piano piano Bene Comodo comodo Bravo Rilassatissimo Perfetto Andato Quindi è bello Cioè è un inception Quando mi fregò il video Vi ricordate Infatti io rubai Esatto Noi ce li siamo conosciuti Perché ti rubai un video Per furto Cioè io lo stavo per denunciare Ma avevo rubato un video Ti rendi conto Ma dopo la fine Siamo diventati amici E andiamo avanti Vabbè Andiamo avanti Migliori amicizie Nascono così Rubando i video degli altri Giustissimo Comodo comodo Perfetto Alla grande Senti Andiamo subito Sulle cose veramente complesse Vai Qui c'è una tecnica Dove richiede Il massimo della concentrazione Bravo Mia o tua Tua Ok Perché io la faccio tutti i giorni E tu invece devi cercare Di essere serio Cosa impossibile Quindi cerca di distrarti Dormi Chiudi gli occhi Rilassati Fai finta che stai guardando Un video appunto La sera per rilassarti Comodo 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 Bravo Ti rilassi del tutto Bravissimo Abbiamo finito Basta Questo è lo cipide Che è un pochino più impegnativo Un po' più seriotto da fare Benissimo Più rilassato che puoi Stessa cosa Questa è ancora più semplice Bravo Abbandona tutto Bravissimo Trovi il momento giusto Perfetto Finito Bravo Ok Tutto bene? Sì sì Tutto sta andando bene Infatti non faremo tecniche Diciamo esternali E andremo un pochino piano Sulla parte dorsale Perché Mike come sapete Ha avuto un grosso intervento E quindi andremo a stressare Meno quella zona È incredibile Che non riusciamo a passare Da cose Sì esatto Capito che ti sbellichi Delle risate All'improvviso super seri Poi rimunciamo invece E questo ci caratterizza Bene Giù le gambette Comodo comodo Sì sì E giù dove te pare Basta che le stende Ah vai Che le stende Voglio fare una coreografia Magari apro le mate Filippi Se ormai te prendono Rilassa tutto Comodo comodo Bravo Bene Proseguo Questa è leggera leggera Abbandona Oh Bravo Però devo dire Che lo sai Che è uno dei pazienti Migliori da trattare Sì perché riesci Ad abbandonarsi Completamente Ma lo sai Perché con la bambina Non dormo Quindi Questa è un'occasione Per dormire Sto sdraio Quindi non dormito in X Fantastica Perché non sono Non dormi Ma quanto sono lunghi Questi calzini Beh non sono lunghissime Quelle calze Sì sì E giusto E' giusto E' giusto Andiamo avanti Faccio io Sì Calzino discutibile Effettivamente E ce ne avevo pure uno peggiore Lo useremo nel prossimo video Tra sette anni Tra sette anni Va bene Allora con calma Giù le gambe Benissimo Bravo Fermo lì che ne facciamo un'altra semplice Ok È andata alla grande Hai visto Siamo riusciti ad essere non invasivi sullo sterno E a fare comunque la parte dorsale Più abbandonato che puoi Giù le gambe Peso morto Abbandona tutto Bravo Si sente Si ma io sono tipo un cadoccio Quindi Pure se hai maccaretti Scrocchio Bene così Giù le gambe Bbandona tutto Bravo Eccola Fantastico Però dopo stai proprio Sì Ti rinaccio Sì Sì Voi Mi la far farla Bravo Stendi tutto Penso abbiamo fatto più casino in questo video Tutti quelli che ho fatto da quando ho iniziato Comodo Comodo Bravo Rilassati Benissimo Giù le gambette a peso morto Ecco qui abbiamo un bel blocchetto Ok Rilassa tutto Rilassa tutto Bravo E non è finita Vabbè Facciamo un'altra cosina importante Bravissimo Dici perché Lo sto riempiendo di complimenti Bravissimo Perché adesso Non ci riesce No no In realtà Perché si sta rilassando Che non è facile Quando ti rilassi Per me diventa Ebbè Non devo forzare Vedi nulla Non riesce ad abbandonarsi Del tutto Lascia cadere le gambe Bravo Perfetto Ok Aspetta aspetta Questa ce l'abbiamo persa Abbandona tutto Rilassa tutto Eccolo qua Volevi scappare Ma Tocchio a parte Ho parlato Se si è rigidito subito Meglio che sto zitto Sì sì Bene Bene Beh sì Effettivamente sì Perché stando Ho riscontrato Che stando tanto seduto Mi sono un po' Creato una ipercifosi Esatto Ah sì Sì Ebbè però Cioè si vede anche Un impurvamento Cioè si vede anche Qualche trucchetto Sulla seduta Scuola E' importante Perché purtroppo Siamo tutti andando In quella direzione Bene Torniamo invece All'allungamento Di Del nostro amico Mike Sei pronto? Vado? Perfetto Firmo lì Ok Una è andata Bello Allungo anche l'altra Sennò ti resta Sivellato Andiamo Ok E poi faremo di peggio Allora mi posiziono Sulla caramella gialla Che è un ottimo Repere medico Per trovare La stragalo Dopodiché invece Mi posiziono Sulla caramella fucsia Che è quella Che ci permette Di salire leggermente Di livello Perfetto E fare l'altra tecna Saliamo su Scusate Mi tocchi il piedio Lo scocchiava Da 15 anni Anche l'altra volta No Non è mai andata Pancia in giù Che continuiamo Il lavoro sulle amiche All don't tie to the edge Right here Bravo Bello stretto qua Tieni di bello forte E andiamo Tieni di bello forte Bravo Abbandona tutto Ok Rende l'idea? Sì sì Continuiamo Ok Questa si è sentita Parigi Ma donna Sì Fammi controllare Che è rimasta attaccata Ma c'è c'è Bene Allora Andiamo avanti Bene così Rilassati Vado? Non è proprio tranquillo Allora Ti rilassato? Vabbè sai Vado eh Uno, due E tre No Non mi sento Mi sono al contratto È il contratto Con l'opposto Della rilassatezza Esatto Allora Cerca di rilassarti Un po' di più Scuotiamolo un pochetto Tipo quando Come siamo Il bussolotto Quello della tomba Vai 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 ecco Scuotiamo un pochetto Vado Tre due uno Bravo Eccolo sì Ah 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 Questa no Questa è Chiudi gli occhietti Io per l'occasione Ti ho preparato L'asciugamanetto In tinta Con La maglietta Solleva la testa Bravo E ti rilassi Comodo 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 Bene così Dormi Bravo E andiamo Ah 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 Non comodo Possiamo riprenderci Passando da seduti No in realtà Era finita la batteria Della telecamera Niente di Di scioccante Allora C'è Una cosa importante Ancora da fare Lascia di cadere Con le spalle Lascia cadere Tutto quanto Più rilassato Che puoi Abbandona proprio tutto Abbiamo finito Basta Bravo Eccolo lì Olè Ci sei? Sì sì Pieno di entusiasmo Proprio No no Perché Tecnicamente Non è proprio il massimo Del piacere Ma si fa in un attimo Abbandona tutto Bravo Più rilassato Che puoi Abbiamo finito Eccola qua Olè Fatto Ci sto? Sì Adesso il movimento finale Quando i piccioni Peccano l'acqua in testa Fatto Alla grande Sì Allora Riprendiamoci Tanto sì Io invece sto Sto bene Ma è un eroe C'è proprio Sì Lui ormai è Tantino Uno spartano A parte perché Poi me li sono visti Poi tutti E quindi Non si fa tutte le tecniche Sì sì Era preparatissima No no Io vengo preparato No vabbè Devo essere sincero È una sensazione un po' Di relax Perfetto Senti Qui mi confermi Che è tutto a posto Tutto a posto Pure il collo Tutto libero Perfetto Senti Facciamo un saluto Al nostro canale 3 2 1 E poi In realtà Dici tu Considerazioni finali Ma io sono sempre contento Il discorso che si è scritto prima Diciamolo No 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 Ma io sono sempre contento Mi spiace solo Che è passato di tanto tempo Però dai Tra covid Io ho mille impegni Lo dico Lo dico Colpa sua Perché io l'ho contattato Quindi pazienza Perché lui Lui Oggi ci fa più pesante Oggi ci fa più pesante Per tutto il tempo Che è passato Che l'ho fatto scontato Però è bello E devo dire Che ti ho trovato anche Abbastanza in forma No La maglietta che è larga Va bene Ciao ragazzi Grazie Ciao Ciao